Non ci sono alternative all'Hub per minori non accompagnati. Prima di esprimere opinioni su questi temi, chiedete ai sindaci che sanno come funzionano queste cose. È lo sfogo del sindaco di Prato Matteo Biffoni, presidente di Anci Toscana e responsabile nazionale dell'Associazione dei Comuni per l'immigrazione. Parole che affida un'intervista alla Corriere Fiorentino rispondendo alle affermazioni di Emma Bonino, che a proposito dell'accoglienza dei minori immigrati si era detta scettica sull'ipotesi della struttura intermedia da realizzare accanto a un centro per rimpatri, difendendo invece il sistema Sprar in base al quale ogni comune avrebbe dovuto ospitare numeri limitati di migranti, che non ha funzionato per la scarsa adesione delle amministrazioni. Mi sono stancato di leggere certe posizioni che giocano con un pezzo di futuro dei nostri comuni, che rispondono a una logica più ideologica che fattiva, dice Biffoni. In tantissime realtà comunali abbiamo 150 posti del sistema di accoglienza integrata per questi bambini e ragazzi, ma ora le richieste superano in molti casi le 600 unità. Noi sindaci non stiamo chiedendo questo atto come novità, continua Biffoni, ma perché nel corso del tempo abbiamo capito che per far funzionare le cose serve un percorso, non basta una buona volontà dei sindaci e degli operatori. È da tempo che spieghiamo che le normative italiane costituiscono uno dei sistemi più tutelanti al mondo, però almeno facciamolo funzionare.